Buon pomeriggio Umberto Buon pomeriggio Umberto Buon pomeriggio Umberto No ma no perché secondo me è strano Poi l'ha detto Marani in conferenza Può arrivare al primo minuto Può succedere Ecco come ad esempio con Napoli L'espulsione di Alvarez Io credo Non so È una mia sensazione Che dopo la partita con Napoli Che la Juve ha vinto Era definita la stita scudetto Già il calo di tensione Si era avvertito a North Island Ne dico peccato che sia stata Questa partita con North Island Perché quel calo di tensione A Catania avrebbero lasciato le penne Io spero bene Anche perché prima o poi Una squadra la dovrà fermare E allora rievocare il clamoroso Alcibali Io credo che sia la cosa più bella Scriverebbero in tutto il mondo Il clamoroso Alcibali verrebbe ripreso Quindi sarebbe perfetto per tutti Ringraziamo Peppe Di Stefano Lo lasciamo al suo lavoro La linea può tornare allo studio Ci sentiamo fra pochissimo Per ricordare i precedenti Tra Catania e Juventus Al Massimino